Si è parlato tante volte nei mesi scorsi dell'accoglienza nel nostro territorio dei cittadini stranieri chiedenti protezione internazionale. I profughi, giunti in Italia sui barconi, sbarcati in Sicilia e poi ridistribuiti dal Ministero dell'Interno in tutta Italia, con diffidenza per mesi sono stati additati come persone non gradite. Però nel frattempo la macchina delle istituzioni ha predisposto bandi, avvisi di gara e la cooperazione e l'associazionismo hanno trovato delle soluzioni d'accoglienza. Una di queste soluzioni è quella che abbiamo documentato quest'oggi in occasione della visita del primo cittadino di Ravenna ai 14 nigeriani che vivono da alcuni mesi nella struttura individuata e gestita tra la cooperativa sociale e la casa. Una casa nel vero e proprio senso della parola, dove diversi nuclei familiari hanno ritrovato un luogo dove ricominciare a vivere e a progettare un futuro dopo aver dovuto abbandonare la propria terra. Frank, tu sei uno degli operatori che segue questi 15 ospiti più un bimbo, un bimbo di pochi mesi. La loro storia e hai avuto modo di conoscerla in questi mesi? Certo, posso dire che il 90% delle persone che sono qui ospitate da noi vengono dalla Libia, sono di nazionalità nigeriana. La particolarità di questo gruppo è che sono tutti in coppia con qualche, diciamo, quattro donne single. Quindi sono venuti proprio già dalla Nigeria come coppia. Quindi hanno fatto la richiesta come coppia e vivono come tali qui. Quindi le regole in questa struttura sono completamente diverse di quelle delle altre strutture che abbiamo, dove teniamo ragazzi giovani o delle persone single. Ecco. La loro storia, non so, il loro viaggio, come sono arrivati in Italia, hai avuto modo di fartelo raccontare? Certo, ovviamente sapete che ho dovere di convidenzialità sui dettagli, però in generale possiamo dire che sono persone che sono sfuggite dalla Nigeria per ragioni che conosciamo benissimo, che sono cose che succedono in Nigeria. e una buona parte di loro addirittura avevano rinunciato a chiedere all'asilo in occidente in quanto hanno trovato una sistemazione in Libia, vivono lì, lavoravano lì e fin quando, prima o poi, con i tormenti che ci sono in Nigeria, in Libia, sono stati i primi ad essere colpiti da questa cosa e rischiavano la vita, quindi sono dovuti scappare e sono venuti di qui perché poi non hanno neanche modo di perdonare indietro in Nigeria perché neanche lì non ci possono tornare. Tra appunto gli ospiti c'è anche un membro di pochi mesi, Cristian. La sua mamma, il viaggio sui barconi per poi arrivare in Italia, l'ha fatto che era gencita? Sì, Cristian, infatti io lo prendo in giro sempre, dico che è un miracolato in quanto era già nella pancia della mamma quando hanno fatto il barcone, hanno seguito tutto il viaggio, fin quando sono arrivati qui ormai è nato qui più o meno cinque mesi fa, è qui con noi, è in forma, gioca e dai, siamo contenti, è la nostra mascotte. Poi oltre a Cristian c'è un'altra donna incinta che anche lei era già incinta prima di partire perché sono qui da più o meno quattro o cinque mesi e anche lei fra tre mesi dovrebbe pattorire qui. Signora Franca, lei è la proprietaria di questa casa, di questa grande casa che adesso accoglie 14 di questi richiedenti asilo. Lei è un bel esempio di persone che si aprono appunto a questi stranieri che chiedono aiuto. È bellissimo, avessi più posto lo farei per altre volte, è una bellissima esperienza, sono persone eccessionali. Poi c'è un bimbo piccolo che è come dare il benvenuto alla vita perché questo porta, è un'emozione, per me è bellissima. Lei è una romagnola doc, prima sentivo che c'è anche l'idea di insegnare a queste donne a fare la piadina o a fare addirittura i capelli. Se me ne danno la possibilità, volentieri, io sono disposta, anzi è bello che anche loro appressino le nostre specialità. Piadina oggi è già andata a buon... l'hanno finita, quindi sono molto contenta. Nel Comune di Ravenna noi ospitiamo nel nostro territorio circa 200 profughi. Abbiamo voluto che fossero distribuiti nella maniera più diffusa possibile per non avere grandi ammassamenti, che sarebbe una condizione di segregazione per gli immigrati e di relative insicurezza per i cittadini. Ho trovato una bella situazione di armonia, l'inserimento in generale è un inserimento positivo. Sono molto contento che ci siano esperienze di lavoro socialmente utile e diffuso per i profughi che noi ospitiamo. Oggi era programmata da tempo, mi fa piacere poter ricordare in questi giorni anche di fronte a qualche polemica sopra le righe su temi marginali, che è avere una città solidale che sa accogliere le persone che sono in difficoltà, garantendo un quadro di convivenza civile e di una comunità che si deve sentire sicura per poter accogliere le persone che vengono da più lontano. Al momento, a che punto siamo del progetto di accoglienza e la loro accoglienza in questa residenza, quanto dureranno? In media, essendo un'accoglienza di primo livello, quindi provenienti tutti quanti da Mare Nostrum o da processi comunque di richiesta di richiedenti asilo, la media tendenzialmente è dai 6 ai 9 mesi. 6 ai 9 mesi dico perché? Perché dipende molto dal fatto se vengono accettati come nella prima richiesta oppure se devono fare ricorso a richieste successive. Secondo me, noi, soprattutto nel nostro territorio, per le scelte fatte anche dalla Prefettura di Ravenna molto intelligenti, siamo riusciti ad ottenere un buonissimo livello di accoglienza di primo livello. Scusate se mi ripeto, ma di primo livello. Il problema nasce nell'accoglienza di secondo livello, quindi in quello che è la progettazione e le possibilità di dare a loro veramente una prospettiva futura. Qui siamo ancora un po' indietro. Questo credo che tutti gli enti locali, tutti gli enti pubblici, compresa la Prefettura e compresa il Ministero in primis, dovranno comunque prima o poi prendersene carico. In un modo o in un altro, mettiamoci a torno in tavola e iniziamo a discutere e a parlarne insieme.